carissimi fratelli e sorelle pace del signore buona giornata a tutti quanti voi che il signore vi benedica e vi accompagna ancora in questo nuovo giorno leggiamo nell'epistola di giacomo leggiamo nel capitolo 1 i versi da 12 fino a 15 dove lo scrittore parla o meglio torna a parlare della prova evidenziando che la prova quando viene superata permette di poter ricevere la corona della vita e parla dopo anche della tentazione e della necessità di resistere ad essa per evitare di cadere nel peccato sottolineando quella che l'origine della tentazione stessa andiamo per ordine innanzitutto la prova lo scrittore vi ritorna dopo averne parlato diffusamente nei versi da 1 a 4 per evidenziare che la prova non soltanto ci garantisce una crescita una maturazione nelle vie del signore e nel carattere cristiano ma la prova quando viene superata ci garantirà la corona della vita che il signore ha promesso a tutti quelli che lo amano ora il termine corona è qualcosa che si riferisce non soltanto a quella che veniva indossata da parte dei re e dei potenti del tempo ma si riferisce anche a quella che veniva data ed era una corona di alloro agli atleti che partecipavano a una gara e la vincevano questa corona era un segno di vittoria dunque era un premio che veniva dato e qui mi sembra di capire che lo scrittore ispirato dallo spirito santo vuole evidenziare che il signore stesso ci darà questa corona ed è una promessa quella di cui giacomo parla che troviamo anche nel libro dell'apocalisse dove al capitolo 2 al verso 10 gesù stesso incoraggi i credenti provati ad essere fedeli fino alla morte in modo da ricevere la corona della vita affrontare le prove quindi è qualcosa che deve essere fatto con gioia in considerazione della crescita della maturazione deve essere fatta con la visione che il signore ce ne darà il premio in altre parole ci dobbiamo ricordare quello che paolo dice ai romani al capitolo 8 al verso 18 e cioè che le sofferenze di questo tempo presente non sono paragonabili con la gloria che ci sarà rivelata e quindi qualunque sia la situazione in cui ci troviamo la persecuzione l'indigenza la difficoltà anche familiare delle volte aggrappiamoci al signore e ricordiamoci che questa prova che si sta presentando nella nostra vita ci permetterà di maturare di crescere e ci garantirà un giorno un premio da parte del signore prove dunque che sono diverse dalle tentazioni e se la prova è permessa da dio appunto con gli scopi di cui abbiamo parlato finora la tentazione non è qualcosa che procede da dio perché la tentazione è un'occasione di commettere il peccato che non è frutto del signore e delle suo agire perché il signore stesso non può essere tentato quindi la tentazione dice giacomo è qualcosa che nasce da altro e cioè nasce dalle nostre concupiscenze qui il termine si riferisce ai desideri smodati che ci sono nelle nostre vite e che possono riguardare tutti i vari aspetti della nostra vita l'aspetto morale quindi riferissi alla sfera sessuale ma non solo o i desideri di possedere dei beni che ci possono portare a compiere degli atti non giusti pur di poter soddisfare quello che noi abbiamo in cuore mi viene in mente a cab questo re malvagio dell'antico testamento che voleva a tutti i costi possedere la vigna di nabot che era adiacente al palazzo reale e che fu disposto addirittura a uccidere il proprietario nabot che si rifiutava di darla in quanto era un bene che aveva ricevuto in eredità vedete come questa concupiscenza questa bramosia una volta che viene assecondata porta inevitabilmente a compiere il peccato ed è quello che infatti giacomo dichiara e cioè egli dice che la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte la morte naturalmente spirituale quella che gustarono eve ed amo nel giardino di eden nei momenti in cui disubbidirono alla parola di dio una separazione dal signore che è temporanea se ci ravvediamo e ci pentiamo dei nostri peccati ma che diventa eterna cioè qualcosa che sarà per sempre se il ravvenimento non si manifesta nella nostra vita e perseveriamo nel pecare concupiscenze quindi bramosie desideri smodati che riguardano ripeto diversi aspetti della nostra vita e che noi non dobbiamo mai sottovalutare d'altronde uno dei comandamenti l'ultimo a dire il vero che venne dato da dio a mosè sul monte sinai fu proprio questo non desiderare la roba e la donna d'altri il signore ci guardi e ci aiuti ad essere persone sagge moderate in un tempo in cui invece tutto questo è stato messo da parte e oramai le persone assecondano sempre i loro istinti di qualsiasi natura essi siano purtroppo nel mondo d'oggi non c'è più riguardo a niente a nessuno tutti sembrano essere presi da quell'idea sbagliata secondo cui il fine giustifica i mezzi no no il signore ci dia grazia anche in questo di saperci distinguere per essere animati da uno spirito diverso da quello del mondo le concupiscenze ci sono è vero nessuno può impedire disse un predicatore agli uccelli di volare sulla nostra testa i desideri arrivano e si affacciano alla porta del nostro cuore ma noi possiamo impedire a quegli uccelli di fare un nido sulla nostra testa noi possiamo impedire a questi desideri malsani di prendere il possesso del nostro cuore noi possiamo scacciare via dalla nostra mente tutti quei pensieri che non sono secondo la volontà di dio non accarezziamoli ma allontaniamoli in modo tale da poter preservare la nostra vita ed essere puri nel cospetto del signore siano le tue vesti bianche in ogni tempo dice l'ecclesiaste sì il signore ci aiuti a mantenere pure le vesti spirituali in modo da un giorno poter comparire nella sua presenza ed essere accolti nel suo regno che la pace di dio la sua grazia il suo amore siano con tutti quanti noi ancora oggi dio ci benedichi insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti